Se volete avere il migliore servizio d'Italia per modare il vostro account su PS4 con 55 milioni in contanti, più di 50 deluxe vendibili senza problemi, il nuovo sottomarino del DLC caioferico come anche tutti i nuovi contenuti del nuovo DLC gratis, ufficio CEO con 60 posti auto con officina personale, Arena War con 27 posti auto e 3 meccanici, veicoli super a vostra scelta in omaggio, 8 garage da 10 posti l'uno e tanto altro tutto quanto incluso nel vostro account al prezzo più basso di tutta Italia. Potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete nella descrizione di questo video come Telegram oppure Instagram. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui nel mio canale, io sono Griggs, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori mi è ritornato, con un nuovo glitch bomba su GTA V online. Come state YouTube? Spero tutto bene, oggi ragazzi sono qui dove come avete letto dal titolo vi porto possiamo dire l'ultima variante che esiste riguardo il glitch per fare RP infiniti. Ultimamente per chi non lo sapesse è uscito questo nuovo glitch che vi permette praticamente di fare 5000 RP ogni 30 secondi grazie all'uso delle piante peyote che per qualche sano motivo Rockstar giovedì scorso le ha rilasciate tramite l'aggiornamento settimanale. Quindi automaticamente questo qui è un vecchio glitch che appunto è tornato a funzionare perché Rockstar ha rimesso queste piante online. Quindi bene o male negli anni passati anche è uscito questo tipo di glitch quindi magari più esperti sanno già di cosa sto parlando. Però per chi magari è nuovo non avesse visto gli altri video vi mostrerò appunto un glitch per fare RP infiniti. Nel canale in questi giorni vi ho già postato due versioni se così possiamo dire di questo glitch. Oggi sono qui dove vi mostrerò la terza e ultima versione possiamo dire visto che nella seconda versione che vi ho caricato praticamente mi è successo il glitch però in modo diverso. Vi lascerò comunque il video se volete sapere di cosa sto parlando quindi diciamo che questo glitch ha varie possibilità di essere svolto ok? E ogni tanto può succedere che magari quando uscite dall'attività non vi trovate direttamente con l'animale ma il gioco vi dà gli RP e vi trovate con il personaggio e potrete appunto rifare il glitch. Mi è successa questa versione nel video precedente quindi magari se capita anche a voi potrete sapere come continuare guardando il video. Oggi ragazzi vi mostrerò praticamente come fare il glitch usando un amico e vi parlerò anche della versione in solo anche se vi ho già postato appunto un video riguardo la versione in solo però ve la dispiego qui velocemente per chi magari non avesse capito come fare questo glitch in solo. Per chi non lo sapesse appunto ci sono queste piante dei peyote online come funzionano sostanzialmente quando noi le andiamo a mangiare il gioco ci fa trasformare in un animale e appunto ci darà 5000 RP. E quando usciremo dalla modalità animale praticamente la pianta non potremo più mangiarla invece grazie all'uso di questo glitch praticamente noi andremo a frizzare la pianta se così possiamo dire da fare in modo tale che appunto potremo utilizzarla all'infinito per appunto salire di livello. Visto che 5000 RP ragazzi non sono per niente per niente pochi soprattutto se considerate che appunto ogni 30 secondi fate 5000 RP usando appunto questo glitch quindi vi consiglio di approfittare come sto facendo io prima che sia troppo tardi. Detto questo per favore signori lasciate un mi piace che a me fa veramente un'altra piaccia mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti se ancora non l'avete fatto detto questo possiamo subito passare ai requisiti per fare questo glitch. Per quanto riguarda ragazzi i requisiti li troverete nella descrizione comunque in parole povere quello che vi servirà sarà semplicemente avere un amico questo glitch funziona sia su Xbox che Playstation 4 come anche sul PC quindi tutto quello che vi servirà sarà semplicemente avere un amico. Se siete su PS4 vi consiglio di dire al vostro amico di entrare in una community oltre che averlo nella vostra lista di amici questo perché praticamente andremo ad usare le community per partecipare dal nostro amico per entrare nella sua sessione comunque nel video vi spiegherò tutto quanto. Oltre all'amico non vi serviranno altri requisiti quindi anche un account a rango 1 può benissimamente insomma fare questo glitch. Chiusa parentesi direi di passare subito alla spiegazione del glitch partiamo con il primo metodo ovvero ragazzi il metodo con l'amico per fare il metodo con l'amico tutto quello che dovrete fare per prima cosa sarà dire al vostro amico di accendere la PS4 andare su GTA 5 modalità storia dalla storia dovrà avviare una sessione per amici chiusa. Quindi prima di tutto il vostro amico vi aggiunge agli amici e una volta che voi avrete accettato la sua richiesta semplicemente il vostro amico dalla storia dovrà creare una sessione per amici chiusa. Se non sapete come si fa basta guardare dal video il vostro amico dovrà semplicemente aprire il menu di pausa dovrà andare su online gioca gt online e poi dovrà confermare di voler entrare in una sessione degli amici chiusa. Quindi conferma e una volta fatto ciò lascia caricare la sessione quando la sessione avrà caricato a questo punto voi potrete iniziare il glitch semplicemente entrando anzitutto nella partita del vostro amico quindi passiamo alla visuale di voi che appunto dovrete fare il glitch e quello che dovrete fare dalla storia sarà semplicemente premere il tasto PS se siete su PS4 e andare o nella lista di amici oppure nella community. Se andate nella vostra lista di amici chiaramente dovete trovare il vostro amico e partecipare alla sessione oppure se magari avete tanti amici e non volete scorrere per trovare il vostro amico potete semplicemente ragazzi usare una community quindi dite al vostro amico di entrare nella community se non ne avete una potete usare la mia che è questa qui che state vedendo nel video e quindi dite al vostro amico di entrare nella community. In questo modo andando su in esecuzione appunto troverete il nome del vostro amico senza stare a scorrere fra gli svariati amici che avrete nel vostro PSN insomma per Xbox basterà semplicemente andare sul profilo del vostro amico e partecipare alla sessione mentre su PS4 tramite le community una volta che avete trovato il nome del vostro amico semplicemente cliccate X su partecipa alla sessione. In questo modo il gioco in basso a destra vi farà comparire il recupero dettagli seguito poi da una schermata di attenzione nera dove vi chiederà se volete unirvi a una diversa sessione di GTA Online. Ora confermate questo messaggio e il gioco vi porterà all'interno della sessione con il vostro amico quindi lasciate semplicemente caricare la sessione e una volta che la sessione avrà caricato come potete vedere se io premo freccia in giù del mio joystick il gioco mi dice che mi trovo in una sessione per amici e ci sarà anche il mio amico che appunto mi aiuta. A fare il glitch quindi a questo punto una volta che sarete entrati nella sessione con il vostro amico il vostro amico dovrà semplicemente fare un piccolo step e poi mettersi in AFK visto che il suo aiuto non ci servirà più quindi dovremo fare praticamente tutto il glitch in semi solo. Quindi quello che dovrà fare il vostro amico sarà semplicemente aprire il menu di pausa dovrà andare su online attività avviattività create da rockstar missioni e dovrà ragazzi avviare la missione chiamata un lavoro da titano se non ce l'ha va benissimo un'altra qualsiasi missione. Quindi il vostro amico lascia semplicemente caricare la partita e una volta fatto ciò quando si troverà all'interno della sala d'attesa dovrà semplicemente confermare le impostazioni e dovrà chiudere la sala d'attesa. Questa cosa di chiudere la sala d'attesa servirà praticamente a non far comparire il tempo quando voi entrate nella partita con il vostro amico in quanto se scadrà il tempo la missione si avvierà e quindi dovrete rifare il glitch da capo. Quindi consiglio di dire al vostro amico di impostare la sala d'attesa della missione su chiusa in questo modo una volta fatto questo il vostro amico potrà semplicemente mettersi in AFK semplicemente mettendo un elastico sul joystick. Se non sapete come fare qui a destra nel video vi lascerò una foto che mostra come il vostro amico può mettersi in AFK quindi quando il vostro amico si troverà in AFK all'interno della missione allora voi a questo punto potrete iniziare con il glitch. Quindi la prima cosa da fare sarà ovviamente ragazzi cercare una pianta del peyote se non sapete dove trovarne una potete usare o quella che vedete nel video oppure potete entrare nel mio canale su telegram nel canale su telegram troverete appunto la foto con tutti i peyote online che appunto in questo momento potete utilizzare. Vi ricordo che i peyote online sono differenti dai peyote della modalità storia quindi non sono gli stessi mi raccomando fate attenzione. Quindi quando avete trovato il vostro peyote allora a questo punto potrete iniziare. Quindi per iniziare il glitch dovrete semplicemente mettervi davanti alla pianta del peyote da fare in modo tale che nel gioco in alto a sinistra vi uscirà la scritta di premere freccia a destra per mangiare il peyote. Quando avrete questa scritta allora potrete proseguire. Quindi avendo questa scritta dovrete aprire il menu di pausa dovrete andare su online giocatori e troverete su giocatori il nome del vostro amico. Quindi andate sul nome del vostro amico e cliccate il tasto X e noterete che andando a cliccare tasto X vi si aprirà questo menu centrale. In questo menu centrale ci sarà praticamente la scritta chiamata unisciti a partita ed è quella che ci servirà. Quindi dovrete cliccare X su unisciti a partita. Quando andrete a cliccare X su unisciti a partita il gioco vi darà il messaggio di attenzione dove vi chiede se vorrete veramente cambiare sessione. Ecco su questo messaggio ascoltatemi bene. Quello che dovrete fare sarà semplicemente premere 3-4 volte freccia a destra dopo aver premuto 3-4 volte freccia a destra confermate con il tasto X. Quindi veramente ragazzi semplicissimo. Quando avrete questo messaggio una volta aver cliccato su unisciti alla partita spammate quindi premete 3-4 volte freccia a destra e subito dopo il tasto X per confermare questo messaggio di attenzione. Ora se avrete fatto questo passaggio correttamente praticamente il gioco poco prima di portarvi nella missione con il vostro amico vi farà vedere il vostro personaggio prima seduto e poi in piedi. E quindi vuol dire che avrete eseguito questo primo step correttamente. Ora dovrete semplicemente lasciar caricare la sessione. Quando la sessione avrà caricato vi ritroverete all'interno della missione con il vostro amico. Dovrete aspettare praticamente nello sfondo che ci sarà questo flash di colori. Quindi come vedete ci sarà questo flash di colori che farà un boom e poi tornerà possiamo dire tutto normale. Ecco quando torneranno i colori normali tra virgolette allora a questo punto potrete uscire dalla attività. Come vedete ragazzi comunque è veramente molto molto semplice. Ora quando sarete usciti dall'attività vi ritroverete praticamente con un animale e quindi vuol dire che avrete eseguito il primo step correttamente. Ora per uscire dalla modalità dell'animale dovrete semplicemente fare un ultimo step. Infatti questo glitch ragazzi si svolge in due step quindi due passaggi veramente veramente semplicissimi. Quindi quando vi troverete con l'animale dovrete semplicemente aprire il menu di pausa. Dovrete andare su online attività avviattività create da rockstar missioni e dovrete avviare la missione un lavoro da titano. Se non ce l'avete ovviamente va benissimo un'altra qualsiasi missione. Quindi a questo punto lasciate semplicemente caricare la missione e quando la missione avrà caricato e vi ritroverete all'interno della sala d'attesa allora a questo punto potrete semplicemente uscire. A questo punto quando sarete usciti il glitch sarà praticamente finito. Infatti vi ritroverete con il vostro personaggio normale e vi saranno stati accreditati 5000 RP. Ora il glitch sarà praticamente finito. Se volete ripeterlo vi basterà semplicemente fare la stessa cosa che avete appena fatto adesso. Come state vedendo in questo momento nel video. E questo ragazzi è appunto il metodo con l'amico. Per quanto riguarda il metodo in solo praticamente i passaggi sono gli stessi da fare. L'unica cosa che cambierà sarà che dovrete andare in una sessione pubblica e andando nella sessione pubblica dovrete avere un giocatore tramite appunto il menu online dei giocatori. Dove andando a cliccare sul nome di questo giocatore il gioco vi darà l'opzione di unisciti a partita. Quindi la versione con l'amico si fa appunto in una sessione per amici mentre per quanto riguarda la versione in solo se appunto non avete amici con cui fare questo glitch si svolge praticamente in sessione pubblica. Il mio consiglio è più persone ci sono nella sessione pubblica e maggiore probabilità ci sia nel trovare il giocatore il quale andando a cliccare sul suo nome vi darà l'opzione di unisciti a partita. Quindi se ci sarà l'opzione di unisciti a partita dovrete fare gli stessi passaggi che state vedendo appunto in questo momento del video. Come avete visto ragazzi il glitch è veramente molto molto semplice ho deciso di ripostarvi una terza e ultima versione per farvi vedere che il glitch è veramente molto semplice e inoltre si può fare in svariate versioni. A volte come ripeto può succedere che quando andrete ad uscire dalla missione con il vostro amico non vi troverete con l'animale ma direttamente con il vostro personaggio e vi saranno stati accreditati dagli RP. Ecco ogni tanto può succedere questa versione se vi succede non preoccupatevi vi risparmiate sostanzialmente il passaggio di avviare la missione quando sarete con l'animale. Per il resto se non vi succede questo è il metodo ufficiale per appunto fare 5000 RP ogni 30 secondi. Poi c'è da dire chiaramente che più imparate possiamo dire la diciamo i passaggi per questo glitch quindi più sarete veloci e più RP farete anche in meno di 30 secondi. Quindi vi consiglio di approfittare prima che sia troppo tardi. Detto questo ragazzi per favore lasciate un mi piace io direi che per questo video può essere tutto. Prima ancora di concludere volevo ricordarvi che se siete interessati a sapere il motivo per il quale in queste settimane non ho pubblicato video vi lascerò un video nella descrizione di questo video caricato sul secondo canale in cui vi spiegherò tutto quanto. C'è da dire che molte cose in quel video non le ho dette più che altro per motivi di privacy però ad ogni modo quando me la sentirò e soprattutto se me la sentirò porterò un video anche qui sul canale principale dove vi spiegherò come mai sono sparito come anche tutti i dettagli se così possiamo dire. Quindi se siete interessati vi lascerò il video nella descrizione. Io spero abbiate apprezzato se così è stato mi raccomando lasciate il vostro mitico bel pollicionsons in su che a me fa veramente un'intervista mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti. Vi ricordo sempre di entrare nel mio canale gruppo telegram anche questi link saranno nella descrizione di questo video infine di seguirmi su instagram anche questo link sarà nella descrizione di questo video. Vi ricordo al solito che se avete bisogno dei migliori servizi di modding in Italia per il vostro account su ps4 oppure pc potete contattarmi ad uno dei contatti che è altrimenti nella descrizione di questo video e niente. Io vi saluto da Crix è tutto noi ragazzi ci si becca come al solito con un prossimo video prossima live un prossimo glitch. Bella voglio! Ciao!